Eccoci di nuovo insieme il 6 marzo giornata europea della logopedia proprio di questo parleremo con le prossime ospiti qui con me io saluto e ringrazio Mara Todarello logopedista appunto grazie per essere con me e Linda Brambilla anche lei logopedista benvenuta ad Angoli intanto ricordo che questa chiacchierata fa parte di un approfondimento una conoscenza con lo studio medico IGEA quindi un'occasione anche per conoscere meglio tutte le attività che lo studio medico propone allora partiamo proprio da qui la celebrazione di questa giornata sicuramente molto importante e quindi parto da Linda Benappunto quindi che cos'è la logopedia e di che cosa si occupa la vostra figura professionale? Allora il logopedista è una professione sanitaria che si occupa di prevenzione abilitazione e riabilitazione di tutti i disturbi che riguardano il linguaggio sia a livello scritto che orale e della comunicazione poi parallelamente ci occupiamo anche di disturbi della voce e tutte quelle patologie che riguardano le funzioni orali specialmente la deglutizione c'è anche una giornata dedicata l'abbiamo detto ora quindi significa che è una dimensione che diventa sempre più significativa sempre più importante parlarne? Sì assolutamente poi negli ultimi anni comunque c'è anche come dire un interesse particolare e un'attenzione particolare nei confronti di questo tipo di disturbo. Grazie. Mara vengo da te. A che fascia di età si inizia comunque eventualmente con un'indicazione alla riabilitazione logopedica? La logopedia è indicata a tutte le fasce d'età. Si interviene in età evolutiva con l'adulto in età geriatrica. In età evolutiva si lavora prevalentemente sul far sviluppare una competenza che non è ancora stata acquisita come per esempio nei casi di ritardo dello sviluppo del linguaggio mentre in età adulta si lavora maggiormente per far riacquisire una competenza quando questa viene persa per esempio a seguito di un evento cerebrale o di una patologia neurodegenerativa. Le competenze linguistiche, comunicative e deglutitorie possono venire a meno comunque possono modificarsi e il logopedista interviene proprio a livello riabilitativo per riadattare queste competenze alla nuova situazione per migliorare la qualità della vita. Certo. Linda come avviene quindi questo iter, questo approccio innanzitutto e tutto ciò che deve accadere per recuperare questa abilità nel linguaggio? Il primo accesso al servizio di logopedia avviene attraverso lo studio, dopodiché noi contattiamo telefonicamente i pazienti o le famiglie dei pazienti e in questa prima telefonata cerchiamo un po' di capire quella che è la richiesta e il bisogno. Quindi al primo incontro di persona riserviamo sempre uno spazio per raccogliere delle informazioni rispetto alla storia del paziente. Quindi in età evolutiva facciamo domande principalmente riguardo la gravidanza, il parto, l'allattamento e lo sviluppo del bambino nell'ambito neuropsicomotorio, cognitivo e specialmente linguistico. Invece nell'adulto cerchiamo di ricostruire la storia clinica, quindi se ci sono patologie pregresse, patologie conclamate, se sono stati fatti degli esami specifici e qual è l'evento indice che porta appunto la persona a rivolgersi a noi. Successivamente ci sono alcuni incontri di osservazione e di valutazione nelle quali somministriamo dei test specialistici e standardizzati che ci permettono quindi di identificare quelle che sono le aree di fragilità e i punti di forza della persona e sulla base di questi impostiamo gli obiettivi riabilitativi e anche le modalità di intervento. Mi pare una fase molto importante quella della raccolta di tutte queste informazioni che mi viene intuitivamente da immaginare che poi possa davvero modificare il percorso di riabilitazione, è corretto? Assolutamente, è fondamentale perché comunque noi attraverso questa fase riusciamo proprio a individuare la fatica della persona e anche le capacità su cui invece possiamo puntare per raggiungere poi i nostri obiettivi. Certo, grazie. Mara, quindi già abbiamo capito c'è un grande lavoro, una ricerca, un approfondimento, ma possiamo trasferire agli amici a casa un'esemplificazione di come avviene una seduta? Che cosa succede poi in realtà? Allora, diciamo, come abbiamo detto con la valutazione delineiamo gli obiettivi che vengono poi, si cerca di raggiungerli con degli esercizi durante la seduta. La seduta ha una durata di 30-45 minuti ed è il momento in cui come logopediste istruiamo il paziente, la persona, a effettuare questi esercizi, a svolgerli nel miglior modo in modo che poi possa riproporli a casa. Questo perché la terapia logopedica ha bisogno di una certa intensità e frequenza, quindi il lavoro non si limita solo a quello che viene svolto con noi logopediste in stanza, ma deve essere riproposto anche a casa. Quale tipo di frequenza, per esempio? Tutti i giorni, più volte al giorno? Cosa succede? Le sedute dirette, quindi con noi in stanza, variano in base poi alla tipologia di utenza che abbiamo e alla patologia, uno o due volte a settimana li vediamo. Però poi il lavoro è bene che venga svolto quotidianamente, proprio per far sì che si raggiungano nel minor tempo possibile gli obiettivi e che questi vengano generalizzati. Quindi è importante che nelle sedute magari ci siano presenti anche i genitori, parlando dei più piccoli, oppure magari di altri componenti del nucleo familiare, parlando di persone più adulte. Chi poi può aiutare la persona interessata a casa nell'essere sicura di fare correttamente quello che deve fare? Sì, esatto. In base appunto alla tipologia di utenza. Con i bambini svolgiamo appunto il lavoro in stanza col bambino, ma c'è sempre un momento dedicato di confronto con il genitore, soprattutto in modo che venga istruito per riproporre gli esercizi a casa. Nel paziente adulto, quando appunto la condizione lo permette, si lavora direttamente con la persona, invece quando c'è la necessità dell'intervento del caregiver, si istruisce appunto le persone che gli sono vicine sul come proporre e cosa fare a casa. Certo. Linda, voi lavorate anche in team con altri professionisti per raggiungere l'obiettivo riabilitativo. Che cosa succede? Sì, la nostra professione ci chiede comunque di lavorare in team e in equip, perché comunque è importantissimo collaborare con i colleghi che sono specializzati in ambiti diversi rispetto al nostro, perché in ogni caso il nostro obiettivo primario è sempre il benessere del paziente nella sua totalità. Quindi anche allo studio medico IGEA collaboriamo con la figura della psicologa e dello psicoterapeuta, nel caso magari di bambini o situazioni comunque più complesse in cui c'è anche un'attivazione emotiva. Quindi le colleghe si inseriscono a supporto del paziente o della famiglia. Oppure collaboriamo con la nutrizionista, specialmente nel caso di pazienti affetti da disfagia, che hanno quindi delle determinate indicazioni dietetiche e delle restrizioni da rispettare. Questi confronti tra professionisti immagino continueranno nel work in progress della terapia, quindi c'è un continuo confronto? Sì, questo sì, anche perché comunque lavorando su determinati aspetti ci si aspetta anche che il quadro si modifichi e quindi anche gli obiettivi e il lavoro si aggiorna continuamente. Certamente, quindi un lavoro di gruppo, di equip sicuramente molto importante. Ma, Mara, torniamo un po' anche ai bambini che abbiamo visto, sono sicuramente un po' anche al centro dell'attenzione. Su di loro, quando ci si rende conto che magari ci sono dei segnali, dei momenti che possono far intuire la necessità di un intervento logopedista o comunque un'assistenza in questa direzione? Ma ogni qualvolta che ci sia una difficoltà, che il genitore appunto nota che il bambino fa fatica nell'ambito della comunicazione o del linguaggio. Poi ci sono dei segnali appunto che si possono individuare già nella fascia degli 0-3 anni, per esempio se manca l'intenzionalità comunicativa, manca la triangolazione dello sguardo. Sono tutti segnali che il genitore, conoscendo al meglio il proprio bambino, può intuire e può riportare davanti all'attenzione di un professionista. Certo, invece in generale, magari anche per gli adulti, ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme che fanno immaginare che magari sia utile avere un supporto di questo genere, così come per i bambini, come lei ci ha detto? Allora, di solito per gli adulti o siamo in casi in cui c'è una patologia già conclamata, quindi penso a patologie neurodegenerative e quindi comunque c'è sempre un'indicazione da parte del fisiatra o del medico che ha in carico il paziente, ha un lavoro di questo tipo. Certo. Oppure c'è un evento indice che cambia l'equilibrio del paziente, per cui è necessario intervenire anche in ambito logopedico. C'è una tempistica in base all'esperienza sulla quale poi ci si proietta per raggiungere degli obiettivi, per esempio negli adulti? Allora, sicuramente sia negli adulti che nei bambini è importantissimo intervenire il prima possibile. Quindi negli adulti, nel caso in cui magari ci sia un trauma, un ictus eccetera, sicuramente i primi mesi, dai 0 ai 6 mesi, sono i più importanti per avere un recupero il più funzionale possibile. Certo. Abbiamo l'ultimo minuto a disposizione, quindi volendo lavorare anche in via preventiva in qualche maniera, c'è una vostra competenza anche in questo senso? Se sì, come? Un minuto e poi ci salutiamo. Presso lo studio medico IGEA proponiamo degli incontri, delle consulenze informative per i vari ambiti della logopedia, facciamo degli incontri anche con gli insegnanti, con le scuole di formazione, affinché siano più pronti e più consapevoli anche rispetto a quando fare l'invio. Abbiamo attivato in questo momento dei gruppi, un gruppo per i genitori dei bambini dagli 0 ai 3 anni, per dargli le strategie su come stimolare al meglio il linguaggio dei loro bambini e un gruppo di potenziamento sugli apprendimenti scolastici rivolto ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Io ringrazio Mara Todarello e Linda Brambilla per essere state qui con noi e naturalmente lo studio medico IGEA che continueremo a conoscere in altri appuntamenti, quindi è una rivederci e grazie, buon lavoro a tutti voi. Grazie anche a voi per essere stati con me, naturalmente vi ricordo prima di chiudere la nostra mail, continuate sempre a scrivere ad angoli-espansionetv.it, continuate a seguire il nostro doppio appuntamento alle 19 e alle 7 del mattino e naturalmente continuate a seguire la nostra informazione. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!